e salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questa nuova puntata di action figures news uscita diciamo eccezionalmente durante la settimana e non di domenica diciamo in questo periodo particolare stanno cambiando un po' di orari nel canale come vedete sto facendo un po' meno video un po' perchè sto sempre in maratona da Dario mi sto divertendo un sacco ragazzi non ce la faccio io ogni volta loggo dentro mi faccio un sacco di risate e lo devo ringraziare un sacco per avermi appunto permesso di stare con loro lì dentro perchè è veramente il top un po' anche perchè diciamo sono riuscito a rivedermi anche con la mia ragazza quindi grazie allo sblocco della quarantena diciamo dei congiunti comunque ragazzi non temete perchè quando si rimette un po' in sesso la situazione tornerò a fare video ogni giorno come sempre ma ora veniamo a noi veniamo ai preordini di oggi come sempre vi ricordo che se voleste preordinare queste figure le trovate tutte nel mio sito Aras Review Shop nella scheda in alto pure qui sotto nella descrizione del video allora cominciamo subito perchè molti mi chiedono preordini riguardanti Final Fantasy VII Remake per adesso ragazzi c'è questo c'è questo interessantissimo set di minifigure alte circa 10-12 cm appunto da Final Fantasy VII Remake sono i 5 personaggi ovvero Tifa, Barret, Cloud, Hyrit e Sephiroth cioè i principali appunto di questo remake per adesso ovviamente prodotti dalla Square Enix e sono vendute diciamo ad un prezzo veramente molto ghiotto per quello che abbiamo l'uscita prevista per questo set sarà novembre 2020 e ora ragazzi un preordine atteso veramente da tutti direttamente da Fist of the North Star arriva finalmente la figure di Kenshiro con questo nuovo design guardate che spettacolo una delle figure ripeto più attese di sempre prodotta ovviamente dalla Medicos piena di parti intercambiabili effetti energetici ragazzi insomma perfetta in tutto l'uscita prevista per questo pezzo necessariamente da preordinare è marzo 2021 e ora ragazzi c'è questa nuova ditta di figure che si chiama Anipex che ci sta proponendo delle chicche tipo quella di Demon Slayer ma adesso arriva con un personaggio a dir poco iconico ovvero Edward Henrik direttamente da Full Metal Alchemist Brotherhood per la precisione eccolo qua ragazzi il protagonista di questa saga pazzesca che se non avete visto o letto io vi consiglio assolutamente di farlo comunque l'uscita prevista di questa figure molto interessante sarà febbraio 2021 e ora ragazzi per la linea figure rise dedicata ai Digimon che ha avuto un successo pazzesco abbiamo un altro dei Digimon più amati ovvero Black Wargreymon Amplified in questa versione leggermente modificata ancora più figa forse del design originale spettacolare davvero questo qui è un kit da montare ovviamente proprio come era Omnimon e Wargreymon comunque l'uscita prevista per questo sarà ottobre 2020 e per concludere in bellezza abbiamo due Sage Figures Marvel direttamente dai film appunto del Marvel Cinematic Universe cominciando con questo Capitano America direttamente dalla scena in cui c'è lo scontro tra il Cap diciamo del passato con il Cap del futuro in Avengers Endgame questo è veramente una chicca perché questo è il Capitano America con il costume del primo film di Avengers quindi una figure molto molto richiesta che avrà anche la testa intercambiabile a volto scoperto la testa con l'elmo con il casco ovviamente veramente da non perdere per la linea Sage Figures ovviamente l'uscita prevista per questo sarà ottobre 2020 e sempre d'ottobre 2020 ragazzi si aggiunge un altro personaggio importantissimo e amatissimo ovvero Loki, Loki per la linea Sage Figures spettacolare anche questo ragazzi con la testa senza l'elmo la testa con l'elmo insomma ragazzi veramente qualcosa di eccezionale la figure forse definitiva di questo personaggio assolutamente da non perdere ebbene ragazzi anche per oggi abbiamo concluso con i preordini erano pochi ma veramente buoni come avete potuto vedere fatemi sapere quali di questi vi ha colpito maggiormente con un commento qui sotto il like al video come sempre è graditissimo così come anche la condivisione se volete far vedere queste figure a qualcuno o semplicemente se volete supportarmi vi ricordo un'ultima volta che per queste e tante altre action figure c'è sempre il mio sito Ara Service Shop nella scheda di Nature qui sotto in descrizione detto questo grazie a tutti per la visione noi ci vediamo alla prossima ciao da Ara e collezionate sempre